... Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo qui alla discarica di Vespia per vedere qual è l'avanzamento dei lavori. A che punto siamo? Per quanto riguarda gli impegni che ci erano presi con l'amministrazione comunale direi che li abbiamo assolti. Ci eravamo impegnati a realizzare un impianto per il lavaggio delle ruote che già esisteva, un impositore non ottimale che è stato montato. Avevamo anche dichiarato che avremmo modificato la pendente della strada e assaltato la strada affinché i mezzi che conferivano i rifiuti non si imbrattassero, i pneumatici andando magari a contatto con il fango e con i rifiuti senza poi poter essere adeguatamente lavati. Abbiamo la rete di raccolta del biogas che si sta rifacendo, abbiamo sostituito la torcia che attualmente brucia a 850 gradi, ha un tenore d'ossigeno inferiore al 5% come previsto dall'autorizzazione. Siamo in procinto di fare manutenzione straordinaria alla vasca di raccolta del percolato, cosa mai fatta dalla sua realizzazione nel 1995-96. Prima ha accennato a un'eventuale bonifica della falda. Allora, ci sono alcuni superamenti per quanto riguarda l'acqua di falda registrati da parte dell'ARPA già due anni orsono. La rete piezometrica, che sono sostanzialmente dei tubi posizionati nel terreno fino a contatto con la falda, non è realizzata in modo ottimale. Questo vuol dire, come dichiarato anche dall'ARPA, che alcuni piezometri non sono di per sé rappresentativi, perché sono a quote troppo poco profonde e non raggiungono la falda. E quindi c'è una situazione in cui, prima di poter verificare e accertare che ci siano dei superamenti, che si termini uno studio che è stato affidato ai professori di Bortolami e di Molfetta e che sia realizzata una nuova rete piezometrica per andare veramente a verificare lo stato di salute della falda. Tutto questo sarà realizzato nei prossimi mesi in stretta disponibilità da parte della nostra collaborazione con l'amministrazione comunale di Castellamonte. Anche perché la bonifica dovrebbe poi essere attuata dall'amministrazione comunale? No, la bonifica è sotto la responsabilità istituzionale del comune. Intanto bisogna dire cosa si intende per bonifica. Molto spesso per bonifica si intende soltanto il tenere sotto controllo la falda con analisi che sono più frequenti, perché bonificare una falda non è cosa facile. Noi viviamo in una situazione, l'impianto insiste su un'area che ha già inquinamenti di soglia di carattere naturale sostanzialmente e quindi per questo è un po' difficile andare a capire se non si fa uno studio approfondito qual è l'apporto che eventualmente determina la discarica. Devo aggiungere che questa discarica è realizzata su un banco di caolino e quindi non c'è neanche circolazione di acque sufficienti in alcuni casi e quindi a maggior ragione bisogna rifare la rete piezometrica, perché ha quote troppo poco profonde. Avete dovuto fare una modifica alle altimetrie del progetto autorizzato da AIA, se non erro perché erano non conformi a quanto voleva la città metropolitana? Meglio dire così che l'autorizzazione, il progetto di ampliamento che abbiamo ereditato, comprando la società abbiamo anche ereditato un progetto già autorizzato, prevedeva quote altimetriche così come previste nell'AIA, nell'autorizzazione, nelle tavole approvate dalla provincia, insomma, quello che il mondo pensava fosse, corrispondesse a una quota altimetrica, abbiamo scoperto che è una quota altimetrica differente, perché? Perché andando a scavare abbiamo trovato i teli della vecchia discarica su cui ci siamo dovuti ancorare e saldare, e forse avrete fatto anche le riprese, con i nuovi teli abbiamo scoperto che sono un metro e mezzo più basso rispetto a quanto si ipotizzava, il che vuol dire che il dato certo è un dato che tutti pensavano di essere, come dire, di avere una quota altimetrica di un metro e mezzo più alta rispetto a quella reale. Impressioni del sopralluogo alla discarica di Vespia di questa mattina? Ma sicuramente, intanto, fare un sopralluogo è sempre positivo, e farlo come Consiglio Comunale è ancor più positivo. Abbiamo chiesto ai gestori poi di poterlo fare anche assieme ai cittadini tutti e l'impegno del gestore è stato, da questo punto di vista, positivo. Ma l'impressione ha due aspetti. Uno più logistico, da questo punto di vista sono abbastanza soddisfatto, nel senso che comunque gli impegni che avevano preso li stanno mantenendo, hanno fatto l'asfalto su cui siamo, hanno rimesso in funzione il lavaruote dei camion che portava delle difficoltà sulla provinciale e non si conferirà finché non funzionerà, così mi hanno detto, finché non funzionerà del tutto. Dal punto di vista, invece, ambientale, ho notato delle migliorie, sicuramente, rispetto ai sopralluoghi fatti nel 2017, ma ci sono ancora delle cose che non quadrano. Anche qua il gestore si è impegnato a sanarle, a sistemarle, e sta facendo già tutta una serie di interventi da quel punto di vista, per cui sicuramente l'amministrazione comunale, io direi in modo unanime, ma assieme ai cittadini, terrà gli occhi aperti e vigilerà su questa discarica che, come ho sempre avuto modo di dire, io mi auguro sia chiusa il prima possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.